Rallentano i lavori del ponte Belvedere a causa della resistenza del cemento del viadotto ancora da demolire. Da giorni la ditta sta lavorando nella parte alta dove insiste il vecchio viadotto, ma non è facile la demolizione. La questione, che rischia di far slittare la riconsegna, si spera di no, sta provocando molti disagi a chi abita in zona. L'obiettivo è chiudere il cantiere entro l'anno. A maggio 2022 era terminata la demolizione del vecchio ponte. Il progetto iniziale peraltro, come ben noto dopo le verifiche, è stato anche un po' rivisto con diverse prescrizioni. Solo a maggio scorso l'ok al progetto modificato, con i lavori iniziati ad ottobre. 15 metri in più per il nuovo ponte rispetto al primo progetto costerà 870 mila euro in più, facendoli evitare il costo complessivo dell'opera da 5 milioni a 6. In pratica, per le opposizioni l'opera è stata caratterizzata da una marea di criticità che loro hanno sempre evidenziato. La speranza innanzitutto è che si riesca a riaprire questa benedetta arteria stradale e che questo ponte possa essere finalmente ricostruito. Poi però bisogna metterci il pragmatismo. Quello che abbiamo sempre detto nelle criticità, nei tempi sempre dilatati, nei problemi comunque sia che ci sono stati nell'addendum al contratto, che ancora non c'è, delle penali sulla progettazione di cui nessuno parla, di un aumento dei costi che era, almeno sulle carte, troviamo scritto per situazioni impreviste e imprevedibili. Se oggi si legge invece questo articolo che è uscito sulle criticità della spalla del vecchio ponte, mi viene da chiedere dove stavano gli imprevisti e perché quindi si è andati a fare questa variante progettuale al ponte Belvedere. Variante che ancora oggi risulta non autorizzata. Chi ha autorizzato a fare il progetto in variante? Nessuno lo dice. Criticità che nel pragmatismo fanno preoccupare noi amministratori, fanno preoccupare l'abitato di via Fonte Secco, di piazza Fonte Secco, perché comunque sia crea disagi, crea comunque sia un cantiere che si scontra con l'altro cantiere di via 20 settembre, crea lungaggini e ci crea un problema sulla viabilità perché il ponte Belvedere è nevralgico proprio per la risoluzione della viabilità cittadina. Tutte cose che cercheremo ancora di portare all'attenzione del Consiglio Comunale, ancora le commissioni competenti, cercando quelle soluzioni che la città dove si cercheremo anche. E la risoluzione del Consiglio si vede